E' molto che non lo vede? Eh sì, parecchio tempo. Il mio Tony è l'uomo più meraviglioso del mondo. Il più buono, il più generoso. E il suo? Ah, il mio Giacomo non lo cambierei con nessun altro. Nessuno ha le sue qualità. Sono stata affortunata. Non voglio perderlo. Eccolo! Più di bene e attento ai ladri, eh? Tony, amore mio! Ah, finalmente! Fatti toccare! Giacomo! Uè, ma è matta! Cosa? Giacomo D'Amato? Eh, fra un po' ero il fu Giacomo D'Amato. Salga. Rifletto un attimo, eh? Eh... Puoi fa caldo, eh? Ah, va. C'è donna insistenza. Eh... Un minuto, eh? Giacomo! Giacomo! Maleducato. Dopo un anno che l'aspetto... Elze andà con la prima che è capitata. Grazie a tutti! Or Series al-